Sarà molto meglio che l'anno scorso, possono andare meglio e speriamo che tutti insieme avremo una grande stagione. Ti ho sentito parlare ovviamente in francese e anche con Rudy Garcia, no? Per te è facile. Sì, all'inizio l'aiuto, però poi tra poco non ci sarà più bisogno. È vero perché già hai imparato molto bene l'italiano, il mister, hai confermato il tuo numero 15? Sì. Numero 15! Milano! 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 Dodò! Allora, allora, Dodò, facciamogli un grande applauso! Velocissimo, Dodò! E devo dirti che ti abbiamo trovato oggi molto molto bene, sei felice, si vede dalla tua faccia il tuo messaggio ai tifosi. No, io sono felice, sono contento. Ringrazio a tutti di venire e dare sostegno a noi. Io spero che voi non mi fate danzare quest'anno, se non mi fate ballare sono felice. Allora, dobbiamo spiegare anche ovviamente per il mister per la dirigenza, l'anno scorso mettemmo una musica brasiliana insieme a Marchinho. Dov'è? Dov'è Marchinho? Ecco, ti ricordi, no? Marcos, vieni, vieni, giustamente Burdisso ti ha convocato la responsabile della sua. Vieni, vieni Marchinho, vieni. Non abbiamo la musica brasiliana, quello non l'abbiamo, però puoi venire qua vicino a noi. Allora, l'anno scorso tu mi rimproverasti perché mi hai detto sì, è vero, però in Brasile ci sono tanti... Allora, l'anno scorso tu mi rimproverasti.